Ci siamo ragazzi, domani esce la nuova season di Apex, oggi stavamo aspettando le patch notes e finalmente sono arrivate, è arrivato anche il trailer del pass battaglia, quindi oggi reaction al trailer del pass battaglia e andiamo a leggere le patch notes insieme. Prima di iniziare come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, spuntate la campanellina per restare aggiornati con tutti i miei contenuti e inoltre vi dico che domani dalle ore 19 sul canale Viola siamo in maratona estendibile. Dalle 19, link in descrizione, passate per un saluto o qualche game insieme, divertiamoci, speriamo con la nuova season. Dico speriamo perché in genere i server sono parecchio instabili quando esce una nuova season, quindi speriamo di poterla provare. Detto questo non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e iniziamo. Allora, sono tutti in italiano, direi che siamo pronti. Oddio, il car così verde non mi dispiace, ma questa è la schiena reattiva? Sì. Oddio, mi sembra molto figa la schiena reattiva, eh. Questa chi è? Valkyrie? È la skin arte della singolarità per Horizon all'apice dello stile. Ma che gli è successo qui a Horizon in questa skin? Cioè sembra che c'è 70 anni. Cioè in faccia che cosa gli è successo? Scusate, perdonatemi, ma è vero. Mi sembra che c'è 70 anni in questa skin. Sarà la skin leggendaria del pass battaglia. Spero mettono qualcosa anche per il mio party. La skin è leggendaria per il Devotion. Insomma, va bene. Oddio, non è male, dai. Ce n'ho già 3.000 di skin per il Devotion. Bella questa skin del balistico. Mamma mia. Mio Dio, quella verde fa cagare in confronto a questa. Mamma mia, quanto è bella questa. Mamma mia, quanto è bella. C'è l'angelo della morte. C'è l'angelo della morte. C'è Asriel, ragazzi. C'è Asriel, guardatelo. C'è Asriel. Mamma mia, raga, sta skin è troppo bella. Ci ha disegnato Asriel sopra, raga. Mamma mia. Spettacolo. Questa è proprio 10x rispetto a quella, eh. Questa skin qui è bellissima. Ah, ok. Ora che si vede così, la skin dell'Oraison è molto bella. Non so, in quella inquadratura sembrava che ci avesse 70 anni. Sin del gibbo, credo che sia una skin epica. Ah, Watson era. Bella la Watson. Cazzo, l'avevo confusa con Valkyrie. La Watson è molto bella. Tra l'altro la skin leggendaria è anche per Watson. Cazzo, vi devo dire, la skin leggendaria di Watson è strastra figa. Credo che sia la skin di Watson più bella. Se c'è qualche main Watson in chat, scrivetemi. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa skin. Ma è tanta roba. Belle, belle. Allora, mamma mia, il car è meraviglioso. Il car è meraviglioso. Guarda, c'è l'Asrael, c'è l'angelo della morte, mamma mia. C'è la morte lì. Che figa che è il car. Poi c'è il flatline. E quello che c'è, il Krabber? Krabber non è male. Vabbè, io lo sprayi. Mamma mia, che bella che è sta skin del car, raga. Fettacolo. Arsenal Battle Pass Questo è il Battle Pass della prossima stagione, ragazzi. Che dire, non penso che ci sia altro da aggiungere se non. Quanto cazzo è figa, l'ho detto già dieci volte, la skin del car. Allora, le abilità di balistico, del balistico ormai le conosciamo. Quindi direi di proseguire. Anche per quanto riguarda l'aggiornamento di Warsage, sappiamo cosa faranno. Aggiornamento classificato ormai. Nuovo oggetto slot, ok. Hanno aggiunto i balon portati, lo abbiamo visto. Attenzione quando lo usi. I giocatori possono distruggere la torre di evocazione e lasciarti a bocca aperta. La domanda che mi vorreste fare probabilmente in questo momento, Nico, è Pensi che la Valkyrie uscirà totalmente dal meta? Per quanto riguarda le Ranked, non penso che nell'ultimo periodo abbiamo avuto delle Ranked in cui la Valkyrie fosse necessaria al gioco. Potevate giocarla, come potevate non giocarla. Quindi per quanto riguarda le Ranked, con questo slot, penso che non cambi più di tanto. Potete giocarla alla Valkyrie come potete non giocarla, secondo me. Anche perché comunque la torre di evacuazione la dovete piazzare. Può essere distrutta, dovete salirci. Quindi non è come la Valkyrie che ulta, vi aggancia tutte e tre, volate via. È molto più difficile traccarvi, è molto più difficile colpirvi. Magari avete un escape migliore con la Valkyrie. Questo nuovo oggetto di sopravvivenza mi sembra solamente un qualcosa che vi permette di muovervi più velocemente per la mappa se magari non avete un Path o una Valkyrie. Ma non penso sia una sostituzione a Valco Path. Anche perché, come ho già detto, ve lo possono distruggere. Ci dovete salire, è lento probabilmente, molto più lento di una Valkyrie. Ma dovete anche sdrovarlo l'oggetto. Poi ovviamente fatemi sapere voi la vostra qua sotto nei commenti. Hanno aggiornato il sistema di ping. Tanta roba questo nuovo sistema di ping per chi non gioca in team. Credo che sia tanta roba. Quando giocate quei random avete modo di comunicare molto meglio. Vedete, qui addirittura ho sentito il nemico, comunque audio nemico. Sto lootando, attacco, raggruppiamoci, difendiamo. Sembra molto molto figo. Direi che è un cambiamento assolutamente gradito. Evita la zona, audio nemico, riorganizza. Ah, riorganizza, vabbè, raggruppati. Inoltre hanno fatto in modo che dalla mappa potete pingare direttamente i respawn, gli animali selvatici, quindi gli prowler, eccetera, eccetera. Quindi potete pingarlo direttamente dalla mappa. E il ping sulla mappa dovrebbe essere più preciso. Cambiamento che non mi sarei aspettato, ma che gradisco molto. Soprattutto per coloro che giocano coi random. Scorsa stagione hanno detto, in questa stagione cercheremo di rendere la vita più semplice ai nuovi giocatori. Mentre la prossima stagione, quindi questa stagione, cercheremo di aiutare tutti coloro che giocano coi random. E effettivamente è stato così. Per quanto riguarda le ranked, se avete visto lo scorso video, sappiamo i cambiamenti che hanno fatto. E anche questo, sembra una cavolata, ma in realtà credo che sia un grande aiuto a chi gioca coi random. Note sulla patch. E qui sono veramente molto curioso. Allora, a occhi chiusi. Nerferanno il Nemesis. Nerferanno l'R99. Per quanto riguarda le armi, queste due armi secondo me le nerferanno sicuramente. Sono state il meta di questa stagione. Per quanto riguarda le leggende, nerferanno il Seer, nel senso che non si potrà più fare la comp con Catarist. Queste sono le mie previsioni. E credo qualche rework per Ash, per esempio. L'Helstar MG entra nella cassa. L'R45 torna subito a momento. Quindi l'Helstar torna nel car package. L'ultima volta che c'è stata, credo fosse la Season 2. Quindi la bufferanno sicuramente. L'R45 la nerferanno. Rotazione della creazione di armi. L'alternator SMG entra nel crafter. L'alternator nel crafter ci può restare. Per quanto mi riguarda. Il sentinel entra nel crafter. L'EV8 e il 30-30 escono. Sicuramente non è un craft che cambierà il game. Magari non c'è un R99 nel craft. Quindi queste armi le giochi se proprio, che ne so, vuoi trollare, vuoi divertirti un po' con il sentinel. Ma insomma, craftare l'alternator, a meno che non torni l'hop up il perfora scudi, non penso che lo crafterà qualcuno. Rotazione delle armi d'oro. Flatline, Triple Take, Spitfire, Mastiff, Vault. Flatline tanta roba. Il Triple Take sti cazzi, la Spitfire sti cazzi, a meno che non la buffino. Il Mastiff. Cioè, ci potrebbe stare. E il Vault. Il Vault non è male. Quindi Flatline e Vault tanta roba. Ok, quindi nei Vault ci sarà una maggiore probabilità di trovare del loot dorato. Maggiori caricatori leggeri. Effettivamente, ragazzi, io questa stagione di caricatori leggeri non ne trovavo mai. E per quanto riguarda i Cargobot invece, su World's Edge, hanno rimosso gli items come il respawn beacon, l'armor bianca e lo zaino bianco. Ok, hanno messo meno heat shield e spawn per, diciamo, sostituirlo con loot più interessante. E hanno rimosso un'arma dorata dai Cargobot. Ogni tanto poteva capitarvi di trovare un'arma dorata, quindi l'hanno rimossa. Ok, le armi. Ora sono curioso dell'Hellstar, cosa gli combineranno. Allora, aggiunti colpi di disturbo. Aumento del danno del 60% contro gli scudi. Scusami. Ah, scusami? Non mi dire che è il coso. Nooo, hanno messo il perfora scudi all'Hellstar. Oh mio Dio, sarà rotta. Il danno di base è da 16 a 17, ragà. Hanno aggiunto il perfora scudi sull'Hellstar. Ma siamo folli. Mamma mia, sarà devastante. Cos'è questo? Non ho capito. Non riesco a capire questa... I proiettili ora hanno il pass through del 60%, il damage. Non ho capito questa cosa qui. I proiettili saranno più grossi, mi sembra di capire. Lo schema di rinculo sarà più semplice da tenere. Hanno rimosso la canna, meno male. Scorta di munizioni, 324. Luminosità VFX, rivolta quando si colpiscono bersagli non corazziati. Ora, nel momento in cui spara l'Hellstar, probabilmente, loro, da quello che mi sembra di capire, immagino, poi fatemi sapere nei commenti, magari mi sbaglio, riducono il flashlight. Riducono, diciamo, la luce quando vai a sparare, in modo che si veda meglio dove stai sparando. Sembra di capire ciò. Vabbè, ragà, non ho capito questa cosa qui. Fatemi sapere nei commenti, scrivetemi nei commenti se voi l'avete capito, cosa è questa cosa qui. Ma mi sembra un'arma sbloccata. Cioè, il perporascudi all'Hellstar non l'avrei mai immaginato. Ora, ci sta che tutte le armi nel car package siano fortissime sbloccate. Ma, ora, sì che tutte le armi che sono nel car package sono sempre state sbloccate. A parte, eccetto alcune. No, minchia, a leggerla così, questa sembra veramente rotta. 30-30, le dimensioni del proiettile sono aumentate quando sono completamente cariche. Ma sapete che, secondo me, il 30-30 non ne aveva bisogno. Era un'arma molto forte. Soprattutto se ci montavi sopra un perforacranei. Sarà più facile comunque ittare il nemico. Sicuramente è un'arma adesso da tenere in considerazione. Lo era già scorsa stagione, ma adesso ancora di più. Vediamo, dipende quanto, quanto sono grossi adesso i proiettili. Ma credo che se la possa giocare anche con il G7 Scout. Il triple take. Triple take e Mozambique sono le armi che odio di più. Dimensione del proiettile aumentata. Andavo abbaffato, il triple take non era un'arma, ragazzi. È inutile che poi mi scrivete sotto nei commenti quando faccio le tier list. Ah, ma il triple take non era un'arma, ragazzi. Era più forte la mozza, porca madosca. Non era un'arma, dai. Dimensione del proiettile aumentata. Oh. Diffusione del fuoco senza mira migliorata. Quindi hanno migliorato l'Hipfire. Modello di proiettile stretto quando completamente soffocato. Anche qui, ragazzi, vi giuro non riesco a capire questa cosa qui. Scrivetemela sotto nei commenti. Modello di proiettile stretto non ho capito. Si stringe ancora di più il mirino quando andate a sparare? Non lo so. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se ci avete capito qualcosa. Munizioni per colpo ridotte da A1 invece di 3. Le dimensioni dei caricatori sono state adattate per adattarsi ai nuovi costi delle munizioni. Siccome adesso quando andate a sparare, sparate un colpo e non tre, i caricatori e le dimensioni sono state riadattate. Quindi ora il caricatore avrà un colpo in più in sostanza. Se andassimo a confrontare i due triple take, il triple take di adesso avrà un colpo in più nel caricatore viola. Invece di 9 avrà 10 proiettili. In sostanza invece di sparare 9 volte, sparerete 10 volte. Che dire? Allora, quando in season 11 il triple take era sbloccato, lo odiavo perché era troppo forte. C'è anche da dire che questa stagione non era un'arma, quindi spero riescano a bilanciarlo. Spero che questa volta non l'abbiano di nuovo reso rotto, ma l'abbiano reso bilanciato. Penso che lo sia. L'R99. Rimosso un proiettile da tutti i caricatori. Sembra poco ragazzi, ma il car, lo abbiamo visto tutti, è un'arma comunque forte, ma quel proiettile la differenza l'ha fatta. L'R99 secondo me resta comunque troppo forte. Per quanto riguarda il charge rifle, insomma, nel momento in cui lo trovi e vuoi giocare un cecchino sicuramente lo prendi. Sicuramente adesso sarà ancora di più un'arma per farmare danni. Figo come cambiamento perché se vuoi un cecchino che colpisca duro io adesso giocherei più il longbow. o addirittura il sentinel. Invece vuoi un cecchino per farmare danni, sicuramente il charge rifle resta comunque una valida soluzione. Allora, credo che questo intendano dire, adesso con la traduzione in inglese, che quella in italiano è orribile, credo vogliono... è quello che vi dicevo. Attraverso il muro di catalyst adesso non sarà più possibile scannare. Né con il bloody, né con il seer. Quindi è un nerf barra buff, perché da una parte non puoi più piazzare muro, piazzare la ulti di seer e vedere dall'altro lato, ma viceversa non ve lo possono fare. Quindi va bene. Mirage. Mirage dal skirmishero support. Eh? Lo so che sembra che io ce l'abbia quei mirage, però... Cioè, ok? Lo vogliono mettere in meta, sto benedetto mirage. Cioè, dieci stagioni che lo stanno baffando per metterlo in meta, sto mirage. Cioè, non ce la fanno in nessun modo. E che a me il meta del mirage non piacerà assolutamente. Non mi piace per niente l'idea di un meta in cui ci sarà il mirage. E non so neanche come possano fare a metterlo effettivamente in meta. Cioè, secondo me, baffandolo così semplicemente lo rendono straforte per quanto riguarda addirittura le ranked, ma non sarà mai meta boh. Vabbè, fatemi sapere voi cosa ne pensate sotto nei commenti. Mentre Ash verrà rallentato di meno quando sarà in mira con la sua tattica. Quindi quando state mirando con la tattica, che avete la tattica che vi gira in mano, prima venivate rallentati alla velocità di camminata e adesso invece potete correre con la tattica in mano. Oh, mi aspettavo molto di più onestamente da Ash. Allora, per quanto riguarda la classe Assalto, l'hanno in parte nerfata perché ora sarà meno probabile che passi direttamente da un equipaggiamento bianco a quello dorato. In generale è stata resa il bottino intelligente, è stato modificato in modo da ridurre appunto come c'è scritto qui il salto di un livello di aggiornamento. Se siete bianchi, di non passare direttamente al viola, ma di passare al blu. E le ottiche però, in parte un nerf, in parte anche un buff perché ora le ottiche vengono assegnate in base alla squadra piuttosto che alla sola leggenda d'assalto che le apre. Quindi pensate di averci già le ottiche per le vostre armi e comunque potete aprire la cassa e trovare delle ottiche che siano buone anche per i vostri compagni di squadra. E hanno aggiunto una percentuale di rilascio speciale per l'ottica dorata, quindi per la Digi. Vabbè, ora quando andate a rivelare una cassa d'assistenza verrà automaticamente pingata tutta la squadra l'oggetto che c'è all'interno del car package. Per quanto riguarda la classe di supporto, nelle casse di supporto ci sarà almeno una batteria. Adesso se avete una leggenda di supporto e questa apre un bin speciale di supporto e avete un compagno di squadra morto, al suo interno ci sarà un respawn beacon portatile. Ecco, questo è un buff insane. Ora, mamma mia, questo è un buff veramente grande. Ora molto più senso. Se avete visto il video in cui parlo del tier list per quanto riguardava le leggende di supporto io vi avevo detto la leggenda che realmente beneficiava del poter craftare i banner dei compagni l'unica era l'oba perché le restanti leggende se sei l'iflane in un fight e i tuoi compagni di squadra muoiono e tu scappi o se sei Newcastle significa che in quel fight è andato qualcosa veramente male perché tu devi essere lì devi essere lì a supportare la squadra fino alla fine devi restare devi supportarli se vengono bloccati e tu scappi significa che hai sbagliato tutto con quelle leggende ed è normale soprattutto se hai un gibbo è normale che tu venga abbattuto venga ucciso sei lì a dare supporto alla squadra è difficile che un gibbo scappi dal fight come Newcastle scappi dal fight l'unica che poteva effettivamente scappare era la loba ma perché nel fight non aveva un ruolo di supporto attivo mentre adesso tutta la squadra se nella squadra c'è una leggenda di supporto tutta la squadra potrà craftare il respawn beacon di conseguenza questo ora è un buff insane ma adesso la classe supporto secondo me avrà un impatto molto maggiore sulle partite questo è il buff più grande che ho letto finora mentre per quanto riguarda il resto abbiamo aggiornamenti qualità sulla vita e aggiornamenti a mixtape che non andrò onestamente a leggere vi lascio le patch notes sotto in descrizione se siete interessati non so che era successo alla web che mi ero tipo rossissimo in faccia c'era il tramonto in casa mia probabilmente comunque queste sono le patch notes della prossima stagione mi aspettavo di più? in realtà no è più o meno quello che mi aspettavo nel senso speravo in qualche rework forse ma l'hanno fatto tutti quanti scorsa la stagione aspettavo qualcosa di più forse per la Ashe ma va bene così sono contento che non abbiano nerfato il patti credo che l'R99 rimarrà sbloccata ma staremo a vedere il car con un colpo in meno comunque il nerf si è sentito quindi staremo a vedere mi aspettavo soprattutto un nerf per il Nemesis che non c'è stato Nemesis attualmente è troppo forte come arma hanno nerfato la carabina e hanno messo il Nemesis quindi ora il Nemesis è la nuova carabina sicuramente mi aspettavo qualcosa per il Nemesis fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate ed Asriel è tutto un saluto e alla prossima mi raccomando fate i bravi e vi aspetto domani alle 19 per provare la season insieme a tutti i nostri e aiutati che si èvenuto a tutti i nostri e aiutati e aiutati a tutti i nostri e aiutati